Si svolgerà dal 25 al 27 ottobre la 25esima edizione della Sagra dell'Olio a Luccasicula. Tre giornate ricche di eventi culturali, spettacoli e momenti gastronomici, tutti dedicati alla promozione dell'olio d'oliva e del patrimonio locale. La Sagra dell'Olio inizierà venerdì 25 ottobre con una mattinata dedicata ai più piccoli. Le scuole locali animeranno l'apertura ufficiale della manifestazione. Nel pomeriggio la piazza principale ospiterà giochi e intrattenimento per bambini e famiglie, mentre la serata sarà animata dal concerto della band alternativa che si esibirà sul palco di Piazza Vittoria Emanuele. Sabato 26 ottobre nel pomeriggio si terrà il tradizionale convegno sull'olio d'oliva presso il centro polivalento, un'occasione per approfondire la cultura e la qualità di questo prodotto d'eccellenza. Contemporaneamente all'interno del centro polivalente si svolgerà un'estemporanea di pittura a cura dell'artista Gisella Piazza, che darà vita a opera ispirata alla Sagra e al territorio. Un altro momento clou sarà lo show cooking dello chef Peppe Giuffré, che preparerà dal vivo la cassata dolce tradizionale che rappresenta l'essenza della cucina siciliana. La serata proseguirà poi con il concerto della celebre soprano Katia Ricciarelli. Ad aprire il concerto sarà il giovane e talentoso tenore Sacenze Gabriele Carbone, che con la sua voce emozionerà il pubblico rendendo la serata ancora più indimenticabile. A seguire poi per i più giovani il DJ Luigi Mastroianni animerà la piazza con una serata di musica e divertimento. La giornata conclusiva di domenica 27 ottobre si aprirà con un corteo di auto storiche che attraverserà le vie del paese. A seguire il gruppo folcloristico Città di Agrigento con danze e canti tipici della tradizione siciliana. La Sagra si concluderà con lo spettacolo di cabaret del comico Sasa Salvaggio. La venticinquesima edizione della manifestazione di care il sindaco Salvatore Dazzo vuole essere un omaggio al prezioso lavoro degli agricoltori e a un prodotto che rappresenta l'anima di Lucca Sicula, l'olio d'oliva. L'organizzazione della Sagra è curata dall'associazione Sipario IV. L'organizzazione della Sagra è curata dall'associazione Sipario IV.